Corone di fiori in piazza Nicola Amore, dove il 15 luglio 1982 furono uccisi in un agguato terroristico il vicequestore Antonio Ammaturo e l'agente scelto Pasquale Paola. In serata nel cortile del maschio Angioino la nona edizione del premio Ammaturo in memoria di quella duplice scomparsa per premiare donne e uomini della polizia che si sono distinti nella loro attività lavorativa. Premiati fra gli altri i poliziotti dei commissariati di Scampia e di Sorrento per le indagini sull'omicidio di una guardia giurata e sulla violenza sessuale ai danni di una turista britannica. Antonio Ammaturo unitamente al suo autista Pasquale Paola hanno sacrificato la vita per questa città, un compito impegnativo trasferendolo nell'82, nell'82 ricordiamo che la guerra di Camorra generava ogni anno quasi 200 omicidi all'anno, era un delirio di atti criminali e per questo oggi era doveroso, lo facciamo con mestizia perché proprio un'ora fa è deceduto un nostro collega, il vice dirigente della Dicos, Antonio Vinci Guerra per un grave male, lo facciamo in tono ridotto, faremo la parte istituzionale, ci sarà un brano di Astor Piazzolla, Mesto, coerente con il ricordo del nostro collega che prematuramente ci ha lasciati. Grazie. Grazie. Grazie.